Un traffico illegale di cuccioli di cane tra l'est Europa e la provincia di Cuneo è stato scoperto dopo due anni di indagine dai carabinieri, coordinati dalla procura di Asti. Denunciata una coppia di BRA che deve ora rispondere di numerosi reati, oltre all'importazione illegale dei cuccioli, anche esercizio abusivo della professione medico-veterinaria, sostituzione di persona e falsi documentali. L'operazione, ribattezzata Spank, ha messo fine a un ente traffico che, secondo i militari dell'arma, permetteva alla coppia guadagni considerevoli con investimenti minimi. I due si presentavano come allevatori ma in realtà gestivano la compravendita degli animali provenienti in particolare da Romania e Ucraina. Bassotti, Barboncini, Maltesi, Bulldog francesi e Achita venduti tramite annunci sui social e sul web come di razza, ma senza pedigrie, senza garanzie sanitarie, in alcuni casi anche senza microcipo obbligatorio e con passaporti falsi. Naturalmente in queste condizioni i rischi per la salute dei cuccioli sono altissimi.